BIMAR V360 Ventilatore a piantana o tavolo con diffusione dell'aria 3D Le diverse funzioni sono programmabili tramite il pannello di comando elettronico a sfior o da telecomando e visualizzabili sul display È possibile programmare fino a 12 diverse velocità d'aria e 3 modalità di utilizzo Normal, Natural e Sleep Timer di 16 ore con spegnimento automatico V360 garantisce un flusso d'aria multidirezionale e di grande portata questo grazie alla particolare funzione di oscillazione 3D dell'unità ventilante che offre svariate combinazioni di rotazione È possibile infatti selezionare il movimento alto-basso in qualsiasi posizione fino a 100 gradi di ampiezza mentre la rotazione destra-sinistra ha 30, 60 e 120 gradi di ampiezza La ventola a 9 pale aumenta e rende più efficace il flusso d'aria ed è particolarmente silenziosa La colonna in alluminio modulabile a due altezze consente l'utilizzo del prodotto anche in versione da tavolo Motore DC a corrente continua Adattatore a corrente continua o alternata Design ergonomico per agevolarne il trasporto Motore DC a corrente continua o alternata Grazie a tutti Grazie a tutti